Sa che la sua forza è passata sul campo di calcio, perché ci sono ragazzi più giovani che corrono. Quindi non hai visto Messi e Ronaldo in tutte le partite. È solo questo. Chi è in grado di trarre il meglio della situazione data? Namaskar Amsad Guru, sei un appassionato di calcio. Secondo te, chi è migliore tra Messi e Ronaldo? Vedi, il punto è questo. Un certo giorno forse posso giocare meglio di Messi, ma questo non mi rende migliore di lui, perché lui ha scalato tutti i gradini, va bene? Un pallone, se lo tira lui in porta, potrebbe andare sopra. Se lo tiro io potrebbe entrare. Allora dirò sono migliore di Messi. Non funziona così. Quindi non è chi è migliore di chi. È solo questo. Chi è in grado di trarre il meglio dalla situazione data? Beh, visto che stai parlando di una partita internazionale, Messi ha avuto la fortuna, direi, di vincere quella partita. Perché, come tutti hanno potuto vedere, ha perso il suo ritmo. Ha ancora delle doti fantastiche, ma non ha la velocità. Non riesce a correre con i ragazzi giovani. Non riesce a mantenere il pallone, ma è bravissimo. Quindi se ne rende conto. Non è uno stupido da cercare di correre più veloce di quei ragazzi giovani uccidendosi. Sta solo facendo i passaggi necessari e facendo la differenza. Questo è un uomo intelligente. Non è vero? Un uomo molto intelligente. Non sta pensando dovrei segnare. Si assicura solo che il pallone sia il posto giusto affinché qualcuno segni. Quindi sta usando le sue capacità. Sa che la sua forza è passata sul campo di calcio. Perché ci sono ragazzi più giovani che corrono. Sai, sempre due o tre passi davanti a lui. Quindi, tutta questa faccenda di ora ciò che chiedi è, è meglio un fiore di gelsomino o un fiore di rosa? Quindi non hai visto Messi o Ronaldo in tutte le partite. Se li vedi entrambi in varie partite nei club in cui hanno giocato, in cui le loro capacità sono state ampiamente esibite, e nelle partite internazionali sono un po' fuori posto. Perché non sono i loro compagni di squadra abituali. E le partite internazionali sono un po' più dure. Non secondo le regole. Perché ci sono le emozioni nazionali. Questi bravi giocatori non possono giocare molto bene lì. I bulli giocano meglio. I giocatori molto bravi non possono giocare benissimo nelle partite internazionali. Nelle partite dei club tutti sono dei professionisti. Giocano a un certo livello di gioco. Li brilleranno. Quindi entrambi hanno brillato magnificamente nei loro club. Beh, a volte quando hai fatto la scelta sbagliata di entrare nel club sbagliato e cose del genere, anche se sei un grande giocatore, vedi, Ronaldo sta seduto in panchina al Manchester United. Perché? Problemi. Altri problemi diversi dal calcio sorgeranno. Ronaldo ha fatto del suo meglio, ma verso la fine penso che non abbia potuto fare del suo meglio, perché non è riuscito a gestire le situazioni e la realtà della vita all'età di 37 anni, ciò che dovrebbe essere. Penso che Messi abbia gestito la situazione della sua età con grazia. E penso che ciò abbia dato i suoi frutti per lui. E non è tutto nelle sue mani. La squadra e le situazioni, le squadre avversarie. Ci sono tante, tante cose. Quindi se vuoi vedere nelle finali, è meglio Bappé o Messi? Bappé è nettamente meglio. Sta giocando come Pelé, va bene. Ma le cose non hanno funzionato. Le cose non hanno funzionato a solo 23 anni. Si sta muovendo più velocemente di quasi chiunque nell'intero torneo, ma non è riuscito a vincere. Alla fine questo è tutto ciò che conta. È questo che devi capire. Quello che stiamo facendo nelle nostre vite non ci appartiene del tutto. Ci sono molte cose. Ti è successo tante volte. Hai colpito l'albero, ma è andato sul green. Oh, è così che vinci. Capita. Colpisci, pensi di aver fatto un colpo fantastico, ma è rimbalzato da qualche altra parte. Hai fatto un brutto colpo, ma è tornato dove doveva essere. Beh, ci sono tutti questi fattori. Quindi non andare a cercare la fortuna colpendo gli alberi, no. Tu fai del tuo meglio. Ciò che succede non ti appartiene del tutto. Questo vale anche per i migliori campioni dei campioni, va bene? Nessun dubbio. Quindi non va bene in nessun momento. Non porre questa domanda neanche a te stesso. Sono meglio del tipo che è seduto accanto a te. Non fare questo. Qual è il meglio che posso fare? Questo è tutto. tutto. È molto più spimmato. È molto più spesso. Allora, la domanda è la mia. Questo è qualcosa che è alta. E' una cosa che ha fatto. Ciò che non spennato, non è mai più spesso.